A tutti gli appassionati di Occhi a Rotelle, Occhi a Rotelle, canale 196, il pianeta delle stecche e delle palline. Allora, siamo nel clou del campionato, parte finale, le semifinali di Scudetto dove Lodi batte Bassano e va sul 2-0. Follonica che pareggia la prima vittoria del Forte dei Mami, le due squadre toscane, una andrà comunque in finale dove dunque avremo da difendere il blasone della storia dell'Occhi a Rotelle e Toscano tra una tra Follonica e Forte dei Mami che viaggiano 1-1. Allora, andiamo a vedere quello che ha fatto Lodi in gara 2 a 4 decimi della serena finale. Lodi si raddoppia e si porta sul 2-0. L'amatore Bosch e Lodi, leggo ovviamente dai comunicati stampa della federazione, riesce a portare a casa il secondo punto solo al secondo tempo supplementare a 4 decimi dalla sirena finale dei relativi tiri di rigore. Dopo la vittoria larga in 6-2, in gara 1, è il catalano Eri che tornerà a firmare la vittoria del 4-3. Dunque, un altro passo importantissimo verso la finale di Scudetto, ormai distante una sola gara. I vicentini del Bassano hanno tenuto testa per tutto il secondo tempo facendosi rimontare solo a 84 secondi, dalla fine soffrendo poi anche nei supplementari decisi dal difensore numero 99. Una gara 2 nervosa, infinita, dove Lubroc e Bassano hanno cercato con carattere di uscirne vincitore sfiorando l'impresa che avrebbe rimesso la serie finale in pareggio. Apriva le marcature, è l'ombre del partito, torner, ma pareggiava i conti in tapin coi al minuto 18. Prima dell'intervallo un gol per parte, prima Cansella, poi compagno. Le emozioni si mantenevano alte anche nella seconda parte di gara, dove Grimalta atterrava Milani e veniva espulso, porchera però parava il tiro diretto di Cansella, ma nulla poteva fare sulla bordata precisa dello stesso Milano in power play, 3 a 2 pesante perché i Lombardi da qui in poi faticavano a emergere in attacco, neutralizzati da una difesa avversaria ma soprattutto dall'estremo Verona in grado di fare la differenza e tirare giù il bandoncino. Decisivo, ancora una volta, come nei quarti di finale. Schemi saltati, Lodi rischiava di perderla, un fallo ingenuo di festa, regalava il tiro diretto del pareggio a Torner a 1.24 dalla fine. Pareggio in foto finish anche per quello che poi si vedeva nel supplementare, dove il pareggio vedeva però un rinfrancato, Lodi tornare a dettare i ritmi e i temi della partita colpendo un attraverso con compagno. Ma all'ultimo assalto purtroppo la fallina tradiva Bassano, la riprendeva Lodi, Torne si involava in contropiede riuscendo per la terza volta in questa gara a superare l'ottimo estremo Bassanese. 3-2, festa grande per l'Amatone perché il secondo punto in questa serie di semifinale sulle cinque partite è fondamentale. La finale è sempre più vicina per i pluricampioni, ormai distante solo 50 minuti. Ma vista l'intensità di questa gara a due impronosticabile, potrà essere anche attrettando equilibrata la terza e decisiva gara sabato in diretta a televisione da MS Sport e MS Channel nella partita dalle 20.30. Andiamo a vedere invece quello che è successo in gara 2 tra Follonica e Forte. Qui manca una T, eccola là, tra Forte e Marmi dopo l'epilogo di gara 1 a favore di Forte e Marmi che aveva vinto 4-2. Stavolta finisce 2-1 Follonica e intanto sabato servirà gara 3 e poi comunque vada servirà anche in gara 4. Allora, nell'andare a ripercorrere i temi Lodi, Bassano 4-3 ai tempi supplementari 2-2, 1-1, 0-0, 1-0, 6-2-0. Lodi con Grimald, Iliuzzi Mendez, compagno, Turner, Cinquini, due fratelli, Gori, Bigatti, Porchera, allenatore signor, Bresciani. Ubroker, Bassano, Verona, Amato, Coi, Festa, Cansella, Milani, Galbas, Baggio, Canesso, Partegato, allenatore Crudeli, Turner, 9-25, 18-56, Coi, 20-08, Cansella, 24-18, compagno, nel secondo tempo, 7-30, Milani, 23-36, Turner con un tiro diretto, espulsi nel secondo tempo al 6-56, Grimald, 2 minuti, 10-10, Turner, 2 minuti, Festa, 2 minuti, al 23-36, ancora Festa, hanno arbitrato i signori Galoppi di Follonica e di Domenico di Correggio. Andiamo a vedere, invece, nei particolari, quello che è successo in gara 2 nel Derby Toscano, ripeto, una delle due tra Follonica e Fortenemarmi, comunque, alla fine, approderà in finale, e sarà una grande finale. È uno dei più giovani di tutta la gara, messo a rifetto a decidere gara 2, la semifinale Scudetto a Fortenemarmi. Follonica pareggia i conti, vincendo 2-1, Francesco Banini decide del match all'1.54 del secondo tempo, supplementari con un tiro preciso sotto l'attraverso. Un Derby Toscani sempre giocato sul filo dell'equilibrio, sbloccato al ventonesimo da un rigore realizzato da Bomber Ambrosio, dopo un primo tempo dove, a fasi alterne, si erano alternate le due squadre, sia sotto il profilo del possesso che delle occasioni create. Nel secondo tempo, ancora sugli scudi il forte, ma il Galilea cercava di perforare l'attenta difesa avversaria con grande intensità, riuscendo a soffocare il gioco avversario. Anche i rosso-blu, però, mancavano di precisione quando arrivavano al tiro a 2x2 con Barozzi. L'estremo viareggino neutralizzava le loro sortite, risultando a ripetizione decisivo. Quindicesimo vedeva la traversa di Federico Pagnini, che era il preludio del gol di Montigello, un diagonale che trovava la deviazione del pattino di un difensore ludendo la parata dignata. Al primo tempo supplementare prevaleva la paura, nel secondo le bocche da fuoco. Forte marmine sfidavano ancora Barozzi con Casas e le conclusioni di Ambrosio. In una delle ripartenze avversario, però, arrivava il gol partito del diciottenne Follonichese, un fendente da circa 8 metri che si bilava sotto la traversa, riscidendo la gara. Animi infuocati nel finale dove la GDS forte marmi in piante a testa bassa a cercare il pareggio, neutralizzato da Barozzi ed un cartellino blu combinato ai maremani. Si andrà a giocare gara comunque 4, mercoledì prossimo. Intanto però ci sarà il radiogiocare domenica alle ore 18 in diretta Fistrivù, gara numero 3. Allora, Follonica batte Forte marmi in trasfretta 2 a 1. I GDS in pianti forte, Ignata, Motarana, Ambrosio, Rubio, Casas, Bariaria, Maremmani, Giovannetti, Antonioni, Bertozzi, Mister Orlandi, Galileo, Follonica, Barozzi, Pagnini, Barozzi, due fratelli Bagnini, Banini, Montigel, l'altro Banini, Cavella, Bonarelli, Piro, Senichetti, allenatore Silva, Ambrosio, 21 e 22 per il forte. Al 19.46 della ripresa, Montigel nel secondo tempo supplementare dopo un minuto e 54, Banini del Follonica, espulso Montigel, hanno arbitrato i signori Carmazzi di Viareggio e Ferraro di Bassano. Dunque terza gara per l'Odi contro Bassano dal 2 a 0 per i pluricampioni. Terza gara domenica intanto tra Follonica e Forte marmi, ma non basterà. Qualcuna delle due passerà in vantaggio sul 2 a 1, si andrà comunque a gara 4. L'appuntamento dunque per giovedì prossimo per vedere quello che sarà successo per adesso è tutto. Da Stefano Ballerini, la linea torna alla mia programmazione, dalla la redazione del canale 196 per questo appuntamento di Ocadotelli, si giocano le semifinali, il debito toscano Follonica, Forte marmi è sull'1 a 1, vinca il migliore, linea allo studio.